Sentite che sono andato parlando di menti malate, giusto? Fai conto che io so tutto su menti malate. È il grande ciclo della vita, funziona sempre per le cose che funzionano. Perché guarda la cosa qui, questa è la valigetta di Trump. Se schiaccio questo, per esempio, io posso far saltare Cuneo. Se invece schiaccio quest'altro, non succede. Comunque Cuneo non serviva, giusto? Non è una città che salva Cuneo.